salve a tutti ragazzi oggi vedremo un altro video parecchio particolare perché succede una cosa molto strana in questo in questa missione principale vedete arno ed elise stanno scappando dalle guardie guardate un po una mongolfiera come potete vedere è cambiato l'aspetto di arno si l'ha tagliata hai tagliato mi hanno afferrato sti bambini ce l'ho sparato l'ho sparato non si è sentito il rumore non ho sprecato nemmeno un colpo vai 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 ho tagliato stai dietro la mongolfiera devo stare dietro la mongolfiera seguiamo la mongolfiera ma dopo sta piovendo ma come mai stanno solo adesso c'è ma è lei che spara sali 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 quella mongolfiera maledizione al cazzo velocissima ok grazie non devo toccare terra ce la farò mai madonna che mira che hai li sto ignorando però tu non mi sei di grande aiuto oh vai oh con la mongolfiera del cavolo meno male non si alza va solo si sposta stranamente solo con dai 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 mongolfiera del pene no 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 sulla linea sulla linea buono buono un momento tornate giù non devo cadere per niente dai ora mi aggrappa a te si ok tutto bene oh 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 sto bene fermi forse stanno cercando di colpire ancora chissà cosa avrà fatto madonna 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 scusate signore è passato in caso di quella che ho fatto scusate signore speriamo di non fare figure di merda vuoi venire o no madonna non sto a perdere tempo ma da dove sparano ancora no non riesco a fermarlo siamo quasi al fiume presto dai 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 sì ce l'ha fatta in futuro alla fuga ci penso io mamma mia è bellissimo da qua su non si direbbe proprio che la Francia stia andando in pezzi le le cose torneranno mai come erano prima secondo te e per te dopo quello che è successo e ciò che abbiamo perso quindi è finita il corso della storia è cambiato non si torna indietro non si torna indietro ma andare avanti non significa farla finita madonna attraverso il vestito sei così lento ti amo beh mo' è più sen è più sensato ah beh bello sulla mongolfiera che scena e finisce qua questo video adio